Di certo non finisce qui. Che cosa vuole fare, Hopper? Non abbiamo più navi. Una l'abbiamo. Una corazzata l'abbiamo. È impazzito. Quella è solo un museo. Non oggi. Questa nave ha ormai 70 anni. È obsoleta. I sistemi d'arma non sono computerizzati. I motori sono spenti da un decennio, il che non sarebbe un problema, ma sono a vapore e non saprei proprio come accenderli. E anche se avessi un manuale di istruzioni e sei settimane per studiarlo, saremmo comunque a corto di uomini. Non so che cosa abbia in mente, signore. Non so che cos'è? No? Grazie a tutti. State bene, ragazzi. Sì, signore. Stiamo bene. Signori, voi avete dato tantissimo a questo paese e nessuno ha il diritto di chiedervi altro. Ma io devo farlo. Che ti serve, figliolo? Ho bisogno della vostra nave. Sì, figliolo. Signore? Che fai? Vuoi rimanere lì a fissarmi? Muoviti, da un'occhiata là fuori. Agli ordini, signore. Hai lavorato su un cacciatore pediniere? Sì, signore. Pronta a lavorare con i veri professionisti? Oh, sì, signore. Avanti, ci serve il tuo aiuto. Fantastico. Proteggetti le orecchie. Non far come una gattina. Lancia, qui sa la macchina. Otto caldaie attive. Pronti a partire, signore. Di quanto carburante disponiamo? 600 tonnellate, signore. Ci dovrebbero bastare. Armi? Abbiamo messo insieme quelle che potevamo, ma non sono molte. Partiamo. Abbiamo una missione da compiere. Parigi avuto. A partire, andiamoci dentro. Forza! A partire, andiamo, andiamo! Macchine a tutta forza! Macchine a tutta forza! Macchine avanti tutta, signore. Tutto bene? Sì, signore. Bene, signore. Rapporto torretta 1. Torretta 1, armata. Vento! Libera! Immilinazione 45! Presa! Carichiamoli! Rapporto 1! Rapporto! Lato a dritta, armato! Rapporto torretta 3! Lato a sinistro, pronto! Lato a sinistro, armato! Faremo veramente fuoco su Oahu? Sembra proprio di sì. Focca! Sì! Cosa o cratot? Ho